Ciao ragazzi, qui è Rainbow Gamer e oggi parliamo di un gioco che vi ha veramente colpito l'arma, parliamo di... Uncharted 4 No ragazzi, sto scherzando, parliamo di Uncharted, il nuovo Uncharted! Finalmente mi è arrivato oggi, il 23 agosto, e oggi non so se farò la serie, ma lo farò probabilmente il 24 agosto, o oggi no. Dove mangiare il 24 agosto? Poi non so quando registrerò questo video, ma ragazzi, questo è la vita! Come tutti sanno, io ho adorato Uncharted 4, e penso che sarà sempre uno dei miei giochi preferiti, ma il mio gioco preferito è The Last of Us. Dettai, però, oggi, che ho aspettato tutto ragazzi, ho aspettato un mese, che mi arrivasse questo, e parliamo di questo... Intenderei di giocarlo. Ragazzi, ho una piccola intenzione, una bruttissima intenzione, la play sarà montata... Ora intanto ci sta pure lui... Di qua, ci sarà montata qui... Perché nell'altra camera, ragazzi, non c'ho internet, io voglio giocare soprattutto il multigiocatore e portarvi... Portarvi soprattutto le cose dalla play dentro, perché se no mi mettono proprio wifi là. Però ragazzi, allora, se volete uno zero play, io ve lo porto. Che significa? Significa che è una cosa che mi ha veramente colpito al cuore, è un gioco che mi è piaciuto veramente tantissimo. Ma ragazzi, andiamo ad aprire Uncharted 4. Io sono emozionato, non ho mai fatto una cosa del genere davanti a qualcuno, poi davanti al pubblico, perché... Allora, copertina molto ma molto bella, molto ma troppo bella. Uncharted The Lost Legacy. Cosa che questa tizia qui, Uncharted The Lost Legacy, l'è disapertuta, l'è disapertuta, è questa tizia qua. E quindi ragazzi, come tutti i Uncharted, sono questi qui ragazzi. Il mio gioco preferito è Uncharted 4. Resterà sempre il mio preferito, è la vita! Sì, sì, è la vita. Quindi, possiamo andare a spacchettarlo subito. Ragazzi, c'è ancora la plastica, e quindi direi di andare ad aprire... Ragazzi, ragazzi, quando da l'ora? Andiamo ad aprire, andiamo ad aprire, andiamo ad aprire. Tattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt quattro queste ci stanno diverse istruzioni per recuperare un antico artefatto indiano e sottrarlo alle griffe di un ospedale secolare ok ci sta scritto tutto il racconto chi andrà a visto un gioco ragazzi che potete aprirlo faccio prima di aprirlo a voi eh ma che cavolo non deve uscire il disco allora andiamo a vedere tra l'altro ragazzi fa pubblicità dimmi chi sei dimmi chi sei metto un attimo in pausa ragazzi ok anzi no allora fa pubblicità dimmi chi sei fi figo poi fa vabbè tutte le istruzioni della play google della play playstation plus tutte le cose vabbè avete capito uncharted e ragazzi c'è il fogliettino stesso che dirà tutte le edizioni limitate e qua davanti c'è uncharted 4 molto figo ma molto ma molto figo allora io ragazzi intendo portarvi proprio ma tutta e non so se portarvela ma c'è il gioco devo finire quindi vi porterò la serie si ve la porterò di questo gioco ve la porterò la serie e c'è tipo ragazzi io allora dopo io ora vi dico la storia per trovare per prendere il gioco la storia per io per prendere questo è che io l'ho preso un mese fa quindi ecco perché l'ho arrivato tardi il 23 agosto però ragazzi è tutto arrivato il 23 agosto ragazzi oggi è uscito sono uscite le due parti e le altre due parti di gabbo e di mike shosha io non le ho viste soffrendo perché il nuovo volevo giocarlo perché ora un canale youtube tutti insieme a voi io non ho visto le parti oggi è arrivato un camion ma no l'aveva preso la zia di mia madre l'aveva tenuto tutto il tempo la ora che si era merdato ora e io ti posso c'è ma chiamato mia madre e sono scelto tipo come un pazzo finalmente questo è arrivato ragazzi è bellissimo io l'adoro ragazzi lo adoro ragazzi playstation 4 uncharted l'eredità perduta e oggi allora insomma idea di portare un altro video di crash bandicoot già che questo non mi arrivava a sto punto vi porto un video di crash bandicoot no perché perché nelle ultime fasi questo mi arriva e sono tipo troppo contento e tipo ora vi faccio vedere un paio di cose che sono queste uncharted 4 ragazzi mi ha veramente colpito bellissimo uncharted 5 non so più quindi non questo ragazzi il gioco più bello però che io ho mai giocato è della sofas della sofas della sofas è il mio gioco preferito ma questo potrebbe diventarlo quello che so dal gioco è che si va tanto in macchina quindi tipo moto g qui non c'entra niente però vabbè interessante si va tanto in macchina sul gioco e ultimamente magari si picchia tanto ragazzi in questo gioco si si combatte più di uncharted più di uncharted 4 ragazzi si combatte più di uncharted 4 a the lost legacy e ragazzi c'è un bonus in multigiocatore quindi mi sa ma mi sa ragazzi non lo so io porterò dei video multigiocatore non si sa non si sa forse quando monterò la play qua oppure ci metterò wifi la magari uno mi spiega sotto nei commenti come metterlo potrò portare tanto multigiocatore però c'è un bonus in multigiocatore che uno mi ha spiegato e l'ha spiegato pure su youtube quindi ragazzi c'è allora questo ce l'ho finalmente e non pensate che una truffa perché non ti dog e questa è la ranti dog solo su playstation e questo è solo su playstation quindi ragazzi allora arriviamo a sei la che ragazzi porterò degli zero play cosa sono i zero play sono dei come si dice sono dei delle cose che tu prendi un gioco esprimi le due esprimi quelli i tuoi sentimenti verso il gioco quindi ragazzi arriviamo a 6 like esprimerò come buttare no sto scherzando allo tanto ma però quindi arriviamo a 6 like aspetta non voglio vedere che sia sporco mettiamolo da parte quindi ragazzi arriviamo a 6 like e porterò un zero play cioè un gioco che ti ha espresso dei sentimenti e lo spieghi in un video ragazzi 6 like uscirà questo qua ragazzi porterò porterò la serie di questo soprattutto e ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ora però me lo sono imparato a fare così eh ciao ragazzi grazie